ciao a tutti amici coltivatori come va volevo farvi vedere la situazione delle drosera deli di cui il mese scorso avevamo fatto la divisione stanno molto bene sono piene di colla ho aggiunto anche un pochettino di sfagno fresco così le piante stanno meglio si si stanno molto bene l'acqua molto alta vorrei vedere anche qui dove avevo prelevato quelle piante e sono venute su altre pazzesco sì questa è una pianta che più togli piante più ne vengono su fantastica questa pianta queste piante le terò qui ancora un paio di mesi poi quando inizia a far caldo le porto in serra bene ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao